Da questa mattina l'ondata di maltempo prevista già nei giorni scorsi ha iniziato a colpire il territorio pugliese e lentamente arriva anche sulla sesta provincia. Al momento nessun problema nella città di Andre sulla costa dove si registrano solo rovesci di pioggia moderati, neve invece su Castel del Monte a partire dal primo pomeriggio dove la temperatura si aggira attorno allo zero mentre in mattinata non ha superato i due gradi. A partire dalle ore 13 invece è più complessa la situazione nell'entroterra della murgia andriese ed in particolare nei pressi di Monte Caccio in direzione Minervino e Spinazzola. La strada provinciale 234 e le strade vicinali e campestri sono già imbiancate e nevica copiosamente anche nelle due città dell'entroterra, soprattutto a Spinazzola. Dalle 18 poi mezzi spargi sale già al lavoro sulla SS 170 nei pressi di Castel del Monte e proprio sulla SP 234 con arterie chiuse per diversi minuti, visto anche l'altissimo pericolo per la formazione di ghiaccio. Già allertate anche le squadre di protezione civile delle diverse associazioni operanti sul territorio. Già attiva la sala operativa della misericordia di Andre in azione soprattutto nei pressi di Monte Grosso, mentre in allerta arancione le guardie federiciane già pronte nei pressi di Castel del Monte. Pronte anche squadre dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri.